E' in programma per giovedì 23 marzo l'incontro dal titolo Ottimizzazione della manutenzione delle pavimentazioni stradali organizzato dal Comune alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Il workshop prenderà il via alle ore 9 con gli interventi del sindaco Massimo Seri, dei relatori Massimo Paolini sul tema leganti bituminosi non convenzionali, Stefano Ravaioli su soluzioni innovative per la manutenzione stradale e Andrea Grilli sulla manutenzione stradale della viabilità nell'anno 2016. Il Comune di Fano illustra quello che è stato fatto nell'ultimo anno, diciamo avvalendosi anche di relatori importanti e c'è interesse perché effettivamente l'abbiamo anche riscontrato in questo ultimo anno, molti tecnici dei Comuni Limitrovi ci chiamano e cercano di capire quello che stiamo facendo, come l'abbiamo fatto in maniera tale che poi si cresca e si migliori a fare i lavori tutti insieme. Quindi l'ufficio tecnico ovviamente è molto orgoglioso di questo, siamo molto contenti che ci sia il pieno a questa iniziativa, è un lavoro importante che questo ufficio ha fatto nel corso dell'ultimo anno, è un lavoro che si vede anche dei risultati, un trend sempre in decrescita rispetto alle richieste di risarcimento d'anno perché insisterò a dire aver cura delle strade oltre che ovviamente un investimento migliora la sicurezza stradale ma anche un fattore economico perché diminuiscono le richieste di risarcimento quindi il Comune di Fano può avere altri soldi per fare altre spese. Grazie Grazie Grazie